anche ci sono tutti che tocco mi chiamo gabriele retro o ai mi cerca mi chiede il numero o dei nomi e sbagliato stava raggiando cerchami sul mini di kitop gabriele domini doveva ci chiede cosa è a chi se non c'è la ricetta ricetta sono capito scopi che fortissimo ma che macro ma da casteggiare i giochi gabriele e da quella che c'è il user mi pare mandare a candidato ma l'impresciuto account io c'ho tik tok e merendezza account non lo posso dare a nessuno vogliono dobbiamo profilo se se me lo dai ti faccio fare un po di fallosi tocca no il mio amico assegna follower vuoi un po di follower a questo il mio profilo non posso lavorare su cavone in di capisci con basta lo spiego meglio a combattere capito da max e ho capito il caso il nico questo caso a seconda vede che te lo dico in breve come come parlo come fratello allora il mio amico a 6.000 follower su tik tok quanti non lo vorrei tu ne ho cercando cercano di chiami gabriele retro mi chiamo a come qua porco dio gabriele pro o o due profili gabriele retro e gabriele a donna grande 1 tutto piccolo tutto piccolo cerca anche l'altro gabriele guglielmino un ottimo tic tocco che se cavo scuola troppo forte no due profili gabriele come credo come per io aure tra auretà 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 Oh, vedi questo skull quanto è bello quando ho build? Bello? Oh, ma pare quando ho sviluppato, eh? C'è, quando ho sviluppato ora? Ma stardo, tu! Mamma... Ho trovato! Ah? Ho trovato di Qtok! Aspettate, che ha mutato di te, che ha mamma di Dio! Ok, mamma, papà! Sì, tutte! Mutate! Dio, mamma di Dio, mamma di Dio! Si è attivato o Google si è attivato? Eh, tu ha... Qua sì, va il caso! Sì, mamma! Gli anguglio, vai! Oh, parla, parla! Parla! Ma ho vedi questo, che ti mandava, o io! Sì, ecco... Oh, ci sta la Natalia, insomma, mentre io stai a capo scarro ora! Ho un laburo di Natale! Eh, come c'è, eh? Un albero! Anche io c'ho un albero! Eh, un guccio! Tu moccaci! Quello a tutti i Natali lo prendo! La brutta! Dio! Mi risorgio! Ma io! Eh! Ma perché siete pianissimo? Ti decisci? Niente! Ah, mi... No, ho detto, scende piano! Eh, se... A cattartela, è un lampo, fammi! Che gratis! Eh, vado, vado! L'ampo, fammi! Sì, vado, vado! L'ampo, fammi! Sì, vado, vado! L'ampo, fammi! Sì, vado, vado, vado! Sì, vado, vado, vado! Sì, vado, vado! C'è un meme! Oh, ci piace la sanzizia! Compa! Nooo! Il finocchio non mi piace il finocchio! Nooo! Non mi piace il finocchio! C'è rezzetto! Mica! C'è rezzetto! Mica! Tagli un coppo di mio! Ma c'è di un coppaticcio! Nooo! E come vuoi? Fa un bluetooth! Ficcimato! Compa! Sì, vado! No! Mica! Hai visto la connessione? Nei cinesti! C'è la connessione dei cinesti! Oh! Sta laggando alla connessione dei cinesti! Ci potevano più il combattuto con la carafo! E' morto, non ci sento più! Aspetta! Io sto bacchando a tutti! Oh, mi dà tempo! Oh! Mi dà tempo! Quella cava un buco di matze! Io doveri un buco! Vieni qua, vieni qua! Un po' di matematica! Aspetta! Vieni qua! Vieni qua! Oh! C'è un buco di matze! Che mica mazze! Che mica mazze! non è successo niente ma è solo un gioco perché d'ingatti con il gioco da bomba almeno per di tutta la playstation stacca le buttano da finestra così fa subito la vittorio reale non ne faccio niente per babbiare to piavo come mica faciste e lui è magico facilo sto coglione come tranquillo stava babbiando nel 17 no comba o per favore minchia ma ci sei caccare niente fatti ho cancellato perché ho cancellato di seconda mette quattro cento di ping faccia quindi stecca un certo caletto di seconda che già vedere solo per fare da vedere come come promette più ma scusare ma scusare grande capo ma scusare grande capo mi facisce laggare un burdello